Questa è la storia di Marco, un ragazzo autistico di 20 anni di Paternò pronto ad affrontare una nuova esperienza di vita. Tra breve comincerà a frequentare le lezioni all'Accademia delle Belle Arti di Catania. Marco e la sua mamma Cinzia cercano nuovi amici per Marco per permettergli di viaggiare da Paternò verso Via Franchetti in assoluta autonomia e indipendenza per poter frequentare le lezioni con qualcuno che possa stargli accanto per poter trovare quegli amici che ad oggi non ha mai avuto. Cerco qualche ragazzo di Paternò iscritto all'Accademia delle Belle Arti di Catania, sede Via Franchetti, scrive Cinzia Cusmano su Facebook. Mio figlio inizierà l'università quest'anno, nuove tecnologie dell'arte e vorrei provare a farlo andare con i mezzi, ovviamente dopo essere andata io con lui per qualche giorno. Ma non me la sento di lasciarlo andare da solo, scrive ancora Cinzia Cusmano. Quindi avrei bisogno di qualcuno che fa lo stesso tragitto, ovviamente che sia responsabile per poter vegliare su di lui. So che chiedo tanto, ma sarebbe un bel salto in avanti per le sue autonomie. L'idea è partita dal dargli la possibilità di poter essere un ventenne, perché l'autismo gli ha tolto veramente tanto. E vorremmo cercare di restituirgli almeno un pochino. Uno dei suoi desideri è quello di avere un amico, però in questo momento, come ho scritto nel posto, ha bisogno di un angelo custode, perché non sarà protetto all'interno dell'università come lo è stato fino ad oggi negli altri ambienti scolastici, con insegnanti di sostegno, assistente all'autonomia e quant'altro. Quindi il mio appello è rivolto a tutti i ragazzi che frequentano la scuola d'arte, chiedendo semplicemente di potergli stare al fianco, potergli guardare le spalle, poterlo proteggere, come un fratello piccolo. E poi Marco ha questo grande, enorme desiderio, quello di avere anche un amico, perché ha avuto sì compagni di classe, però da ventenne è giusto che abbia degli amici. Sì, lui mi dice in pratica non sempre, perché la maggior parte delle volte è nel suo mondo, però quando ci pensa mi dice che si sente solo e che vorrebbe un amico. Io posso essere mamma, posso essere papà, come lo sono stata da vent'anni, però non posso essere amico, sono un'amica, però non posso essere l'amico che lui vorrebbe, che merita, perché è un ragazzo di vent'anni come tutti gli altri, con gli stessi desideri, il desiderio magari di innamorarsi, di uscire, di giocare con qualcuno, di parlare dei suoi interessi, quindi è un ragazzo di vent'anni che vorrebbe essere un ventenne, però purtroppo l'autismo gli ha rubato anche questo.